Grazie, grazie dottore Ercole. Rapidamente ringraziamenti veramente al dottor Geraci che fin dall'inizio abbiamo lavorato su questo progetto e a tutti i componenti del Corecom, perché non è facile a volte far veicolare tramite un libro le nuove tecnologie. Ringraziamenti anche al Presidente Filippo Lucci, coordinatore nazionale che fin dall'inizio ha creduto in questo progetto, al Consiglio regionale del Piemonte nella figura del Presidente, del Vice Presidente, con il quale avrò subito da dire una cosa molto particolare e simpatica. Un libro, sì un libro, vi apro una parentesi, ho fatto il liceo classico, ho studiato informatica, ho fatto tanta matematica ma ho fatto tanta classicità se vogliamo così definirlo. Io parto da quello che era latino e greco, quando ho visto prima la citazione in greco l'ho letta, è stata un'emozione per me leggerla, perché ricordo ancora le varie lettere che ormai qualche volta uno mi diceva, anzi tanti mi dicevano ma a cosa serve il greco? Questo lo dico ai ragazzi, è una lingua morta, non ci serve a conoscere il greco, ci serve a conoscere la logica, la logica del latino e del greco che permettono di risolvere qualsiasi problema, senza nulla togliere alle scienze matematiche. Mi sono laureato in tal senso, ma lì a me fare un teorema di matematica, risolvere qualcosa di algebrico era come fare una traduzione in latino e greco. Un'altra cosa particolare, un libro, sì esattamente un libro, qualcuno mi ha detto ma come un libro su Facebook non fai un ebook? No, perché il target non sono i giovani, il target sono i grandi, ci metto anche io. Sarebbe veramente assurdo, più che definire uno simoro, un libro che aiuta i grandi a conoscere Facebook in ebook. Vorrei vedere quante persone oggi lo sfoglierebbero qui in questa sala, forse neanche io mi annoierei. Un'altra cosa simpatica, nativi digitale si parla sempre. Io non sono un nativo digitale, prima lo si diceva insieme. Io sono un primitivo digitale però, perché a dieci anni ho avuto la fortuna di utilizzare il computer, un Commodore. I giovani non lo ricordano, i più grandi sì, un Commodore 16, 64, amiche e così via. Quindi sono un primitivo digitale. Questo primitivo digitale oggi ha sentito e ha visto una cosa che in realtà, sentite che bella sala, non si sente nulla. Ci sono dei ragazzi, qualche volta un tossire, certo, ai tempi nostri si parlava, si cercava di fare una battaglia navale in un convegno. Ma, diciamoci la verità, quanto eravamo giovani, quanta voglia avevamo di ascoltare dei convegni. Invece oggi i ragazzi hanno parlato, perché c'è stato un brusio informatico di cui quasi nessuno si è accorto. Tutti con la testa abbassata, chi con il proprio smartphone, probabilmente chi tramite Whatsapp, chi su Facebook, qualche ragazza sorride, qualche ragazzo pure, scambiava messaggi. Qualche uno potrebbe dire, ma qui non mi prendo il cellulare, ma tanto sul mio smartphone ho l'app per fare in rete, giocare in rete con il mio amico. Quindi, casomani, mi abbrisco l'online, non me la faccio online, ma me la faccio con quello lì di fianco. Intanto non parlo, il professore è contento, va tutto perfetto. Ho fatto, tu scesi dice, no? Ma esattamente questo lo spirito, il cambiamento. Il presidente Lucci ha detto una cosa iniziale importantissima, è venuto qui e ha detto, io ho già postato su Facebook, ma ci rendiamo conto cosa significa? Io ho già postato su Facebook, in una tradizione di circa 15 anni, qualche lustro fa, avremmo saputo che il presidente Lucci era in Piemonte a fare un convegno, probabilmente 24 ore dopo, quando uscivano i giornali. O forse qualche ora dopo, tramite LTV. Oggi in tempo reale, oggi tutti sanno, tutte le persone collegate al presidente Lucci, sanno che a Torino a relazionare in un convegno. Queste sono cose molto, molto importanti. E prima, anche il dottor Geraci ha detto una cosa bellissima, me la sono appuntata. Le particelle di una nuova grammatica, che se non riconosciamo rapidamente, rischiamo di non poterle più utilizzare, quindi non parlare più la lingua che parlano i giovani. Veramente qui si tratta di una grammatica. I ragazzi che chattano tramite Whatsapp in silenzio, quanto sono bravi, no, stanno parlando una lingua che noi non conosciamo. Forse il messaggio sarebbe spegnete i cellulari. Oppure, più che vedere, parlare questi ragazzi, vedere se hanno il capochino, perché forse col capochino stanno guardando un monitor. E' molto più difficile controllarli, ma è molto più difficile controllarli online. Facebook, genitori alla riscossa. Perché è una sfida? Io ho chiamato genitori, mi piace, io non sono un genitore, lo dico, quindi sono obiettivo nelle cose, nel bene e nel male. Ma è una sfida che ognuno di noi ha. Io veramente ammiro le forze dell'ordine, perché stare dietro a quelle che sono i problemi, il DEP, il DIP web, veramente tutte le problematiche intorno alla rete sono tantissime, è difficile stare dietro. Ma non possono essere sempre loro che risolvono i problemi. Forse è ora che i problemi cominciamo a risolverli a casa, a scuola, perché lì è la base dove si formano i giovani. Vi leggo una frase che mi piace tanto, di Ferenzi, un noto psicologo. In una stanza dove si è accesa soltanto una candela, basta una mano davanti alla sorgente di luce per oscurare metà della stanza. La stessa cosa accade col bambino. Se gli ha regato un danno, sia pur minimo, quando la sua età è ancora agli inizi, ciò potrà proiettare in lui un'ombra su tutto il resto della sua vita. E voi credete che questo non avviene? Assolutamente. Vi porterò degli esempi in questa relazione, che cercherò di far durare pochissimo, ovviamente, perché non vi voglio annoiare, però vi porterò degli esempi. Internet. Noi avevamo la via, la strada. Abbiamo giocato per strada. Noi si cadeva, ci si sbucciava, si tornava a casa. Oggi c'era il muretto dove si rincontrava la parrocchia. Non esiste più oggi. Oggi questi luoghi fisici sono stati sostituiti da luoghi virtuali. Ci sono i social network. Oggi Facebook, il più famoso, il libro è rivolto a Facebook perché ha un miliardo di iscritti, ma ce ne sono tanti di social network, perfino illegali, li hanno chiuso qualche d'uno qualche settimana fa. E Facebook proprio perché è uno dei più grandi, dei più grandi in assoluto. Quindi qualche d'uno si può ancora il problema estere e non essere sui social network. Su Facebook non è questo il problema, sarebbe assurdo oggi. Il problema è come esserci su un social network, come essere su Facebook. Diceva prima benissimo il vicepresidente, il dottor, scusatevi, Placido, ecco, non mi voglio sbagliare. Cioè, non c'è più un problema di poter esserci o non esserci. Ci si sta, basta, però bisogna capire quali sono le regole. Bisogna capire quali sono le regole e perché. Perché se queste regole non si rispettano, poi succedono tanti problemi. C'è una cosa, tra i giovani, c'è una cosa molto ganza, i giovani dicono. Io ho tanti amici, si fa la corsa a quanti amici si hanno su un profilo Facebook, 500, 1.000, 2.000, 3.500. Io non riesco a gestire i miei 15 amici. Se qualche d'uno me lo insegna, io mi metto a sua disposizione. 3.500 amici sono amici. O sono persone che in realtà leggono tutto quello che facciamo. Ma se qualche d'uno prendesse uno di voi, uno dei ragazzi, dico, mi ci metto anche io da primitivo. E mi metto in una piazza, una bella piazza dove sono tante persone. E mi tolgo tutti i vestiti, perché questo significa prendere amici che non si conoscono sul proprio profilo. E farsi vedere nudo, far vedere quello che uno fa ogni giorno, quello di cui si parla. Ma io penso che alla fine noi in piazza non ci andiamo. E quindi anche quando siamo su Facebook dobbiamo stare attenti a quelle che sono le persone. Qui i docenti, i genitori, devono riuscire a far capire che non è l'avere tanti amici l'obiettivo di essere presenti su un social network. Su un social network si è per condividere con gli amici reali, che poi sia uno strumento per allargare le proprie conoscenze e benvenga. Ma non è per fare la corsa a chi ce n'ha di più. Assolutamente. Questo è uno studio che ha effettuato Vodafone, se non sbaglio. Ho estrapolato due semplici domande. Percezione da parte dei genitori di un divario generazionale rispetto ai figli, espresso sotto forma di inadeguatezza o di diversi stili d'uso e di apprendimento. F sta per femmina, 47 anni, utente. Io uso tanto il cellulare nuovo e ancora devo capire come funziona. Loro sanno già cosa fare. Prima si parlava di libretti di istruzioni, non esistono più, è vero. E' bello che un figlio si sieda al fianco del proprio papà, della propria mamma, della propria professoressa spiegando cosa può essere un nuovo strumento, un nuovo software. Ma è anche vero che non può essere solo monodirezionale. Poi occorre che dall'altra parte ci sia un ritorno. Se da una parte c'è un percorso tecnico, dall'altra parte deve esserci un percorso critico nel far capire come si deve utilizzare lo strumento. A me piace sfogliare le istruzioni. Questa slide è stata fatta dopo che aveva parlato, quindi non l'abbiamo modificata in tempo reale. A me piace sfogliare le istruzioni. Maschio, 48 anni. Mia figlia non ha neanche aperto su internet il libricino. Niente, lei dice che le piace conoscere e capire com'è. E' vero. Si prende, si apre, si incomincia a installare, applicare, vedere. Che anche questo è bellissimo. Però attenzione, che poi si attivano delle funzioni come su Whatsapp, condivisione foto, e non ci rendiamo conto e condividiamo le foto che non vorremmo condividere. Quindi se è giusto a volte non utilizzare il libretto perché siamo un pochino più orientati, è anche giusto cercare di capire che poi, quello è un primo utilizzo, ma poi vanno configurate le cose. E per configurarle bisogna applicarsi. Riconoscimento di una superiorità di competenze tecnologiche, proprio a dei figli, ma di una loro ridotta consapevolezza critica. Questo è il problema. Loro sono bravissimi. Sappiamo fare tutto, sappiamo installare tutto, però poi come lo usiamo? E come dire che loro sanno descrivere la miglior pistola del mondo? Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che parliamo di una pistola. Un po' forte, però. Loro sanno descrivere la miglior pistola, sanno smontare, rimontare, pulire, in tre secondi, quattro secondi, forse sarà un record. Ma poi qualcuno gli vuole dire che forse con la pistola non è il caso di sparare? Vi porto alcuni, sono tre slide. Sono le ultime notizie delle ultime 96 ore riguardo a Facebook e quello che succede online. Un consiglio, volete vederle? Andate su Google, entrate nell'area notizie, mettete la parola Facebook e vedrete come cominciano a uscire tutta una serie di notizie. Adescata su Facebook è rapita. Il sequestratore è recidivo. Sua moglie era scappata con lui. Quattordicenne arrestata per cyberbullismo su Facebook. Tra l'altro vi evidenzio che le date qui non c'è. Eccola qui. 16 ottobre. Mi pare che non siano passate tante ore. Ancora qui il 16 ottobre. Minaccia su Facebook alla compagna in carcere. Una rete di pedofili dietro il sequestro della ragazzina adescata su Facebook. Molesti su Facebook. Maestro sospeso. Posta la droga su Facebook. Preso il pascher dei ragazzini. 96 ore parliamo. Un po' tutta Italia. Fano. Reggio Emilia. Brescia. Scendendo nel sud. Vi rendete conto quante cose? Noi a volte siamo abituati. Il mondo ci globalizza. Ma globalizzarsi, perché questo c'è un netto orsono globale, significa anche ascoltare oltre forse i confini della nostra città, del nostro territorio locale o della nostra Italia. Perché davvero ogni giorno ci sono problemi, ma problemi gravi su Facebook. Poi, e questo lo dico ai grandi ma anche ai piccoli, ce lo diciamo insieme, ma perché il pulsante di pubblicazione su Facebook non si chiama inserisci? O carica e si chiama pubblica? Ma ve lo siete mai posti il problema? Pubblica cosa significa? Qua veramente un po' di latino e greco ci occorrerebbe. Rendere pubblica è una cosa. Voi non state caricando un'informazione su un sistema. State rendendo pubblica una vostra informazione, che vi riguarda tra l'altro personalmente. Quindi io quando clicco quel pulsantino pubblica, mi trema la mano. Perché immagino, ma questo che sto pubblicando è adatto? E guardate che non si tratta sempre di foto in bikini, o foto fatte con gli amici, una serata di festa. Ma anche quando scrivo in italiano, mi domando, ma questo che sto scrivendo ha un senso? Perché oggi c'è anche il problema di scrivere. Questi strumenti, in primis il cellulare con gli SMS, stanno sviluppando un nuovo modo di scrivere. QST, C6, TVB. Io scommetto che la metà di persone in quest'aula non me lo sanno tradurre. Ci ho messo tempo anche io. E questa è una cosa basilare. E ci sono casi in cui, anche questa è una cosa un po' paradossale, poi in Italia si è misurato di più che in altre situazioni, in cui sono tutti vittima del bullismo. Allora su bullismo chi lo fa? Tutti i ragazzi sono vittima del bullismo. E genitori, professori, tutti in protezione. Ma in realtà ci sta chi fa bullismo. E sono i ragazzi stessi. Quindi è anche bene capire, perché così come il bullismo avveniva nelle nostre scuole, che era rubarci una merendina, ma lasciava, perdeva, come dire, non aveva quell'importanza. Che oggi può avere un bullismo online, quando si pubblicano delle foto e rimangono per una vita online. E rovinano la carriera di ragazzi e ragazze. E vi porto qualche esempio rapidamente. C'è un video, non lo faccio vedere, vado avanti perché non voglio togliere tempo alla presentazione. Principali problematiche. Cyberbullismo, l'abbiamo visto prima. Ottimamente è stato presentato dal dottor Suraniti, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, scusatemi se commetterò qualche errore sui nomi, dall'ufficio scolastico regionale per il Piemonte. Ma c'è il mancato controllo delle informazioni personali, che a me spaventa tantissimo. Il chattare con gli sconosciuti. Guardate che quando si chatta con gli sconosciuti, non parliamo di profili di ragazzi che stanno là aspettando che lo sconosciuto li contatta. Gli sconosciuti hanno tattiche, hanno strategie operative, sono bravissimi, chiedo conferma, sono bravissimi. Possono aspettare sei mesi, un anno, per poter raggiungere la propria vittima. Perché costruiscono percorsi di ingegneria sociale. Questa parola che sentiamo sempre molto poco, in cui ormai siamo immersi. Ingegneria sociale. Percorsi per cui a distanza di sei, sette, otto mesi, quando raggiungiamo una sorta, tecnicamente, di trust, nei confronti di questo profilo online, lo apriamo, diventiamo amici, fino a quando non avremo l'appuntamento, l'incontro. E lì poi sorgono i problemi. Lesione della reputazione online. Qualsiasi cosa pubblicata rimane. Disattiviamo l'account rimane, cancelliamo l'account rimane, ma non è legale. Chi l'ha detto? Sappiate che ci sono leggi internazionali, tra l'altro Facebook, molto si fa alle leggi americane, per cui i dati bisogna comunque mantenerli, salvarli, backuparli, in caso di controversie che possono avvenire a distanza di tot anni. Quindi non è che scompaiono, non saranno visibili in quel momento, ma il dato da qualche parte rimane. Usi inappropriato delle applicazioni di Facebook, e qui parliamo di giochi, giochetti e cose violente. Postare in maniera scorretta, postare foto non adatte, postare commenti. Non lo sapete che bestemmiare su un social network è come andare in una piazza e bestemmiare? Dire una parolaccia? Eppure io ho visto docenti che rispondono, non dico con parolacce che sarebbe forte, però casomai con termini che sarebbe il caso di evitare. Violazione del diritto d'autore, non entro nel merito, perché qui si potrebbe aprire, fare un convegno solo sulla violazione del diritto d'autore. I dati, benissimo. Insegniamo ai ragazzi a dire che l'adescamento è un reato e che se loro hanno dei problemi di rivolgersi a casa, ai professori, perché se c'è qualcosa che non va, oggi ci sono le leggi per poter tutelare. Ai ragazzi dico, non vi spaventate perché assolutamente cyberbullismo, che cos'è? Si parla con chi di dovere e vedete che il problema si risolve. Perché si risolve, ma perché dovete voi risolverlo, siete voi gli attori e i genitori e i maestri sono un pochino, come dire, i direttori d'orchestra che vi devono insegnare a come procedere. Gattare con gli sconosciuti, quel video ne era un esempio palese di dove si va a finire. Porto un caso che mi ha fatto sempre un pochino rabbrividire. A Pisa c'era una persona molto malintenzionata che tramite Facebook riusciva ad incontrare ragazzini tra gli 11 e 14 anni. Parlo di maschietti per la cronaca, così non è solo un problema di femminucce. E poi lo sapete cosa faceva? Li incontrava nel parcheggio, in uno dei parcheggi di Pisa e li violentava. E poi chiedeva a loro di stare zitti, altrimenti lo dicevano alla mamma e al papà, lui avrebbe detto a mamma e papà e ci prendeva tante botte. Questi ragazzetti di 11, 12 anni, 8 ne sono stati constatati di casi, non hanno parlato e hanno subito per mesi abusi. Maschietti con maschietti. Il sexting, quando ci piace fare le foto, insegniamo loro che le foto sono una tutela per noi stessi, per loro stessi, per il nucleo familiare. Vi dico una cosa banalissima, fare una foto in famiglia e pubblicarla su Facebook dove avete 3500 amici, dove c'è il vostro fratellino casomai di 4-5 anni che può colpire la fantasia di un pedofilo. Ci avete mai pensato come indirettamente potreste fare dei danni al vostro nucleo familiare? E a scuola dovete dire, i genitori devono far capire che avere uno strumento per fare le foto non significa fotografare tutto. Un conto con gli amici ma non significa stare a scuola e fare foto, non significa andare nei bagni della scuola, nei bagni delle proprie camerette e farsi le fotografie e pubblicarle su Facebook. Perché dopo quello che avviene è questo. Queste sono ragazzine di 13 anni, il loro sogno è essere Belen e si mettono in foto se per poter raggiungere il massimo numero di seguaci. Così loro si sentono in qualche maniera piene di loro stessi. Hanno raggiunto a 13 anni, pensate, il loro obiettivo. 13.000 seguaci, Silvana 25.000 seguaci. Guardate questo. E se fosse vostro figlio? Beh, a me un pochino i brividi mi vengono a galla. Reputazioni online, mi fermo su questo e ci avviamo alle conclusioni. Uno nessuno 100.000, ce lo diceva più di 100 anni fa, Pirandello, noi siamo per quello che gli altri ci percepiscono. Allora, su Facebook che cosa siamo? Per quello che gli utenti ci percepiranno, per quello che pubblicheremo o per quello che qualche d'uno ci insegnerà di pubblicare. Prima si parlava di lavoro. Negli Stati Uniti per trovare lavoro si entra su Facebook nel senso che le agenzie interinari e le aziende vi vanno a controllare. Avviene già in Italia. E caso, mi pare, se ricordo bene, di qualche mese fa di un di un ragazzo che doveva essere assunto come ingegnere meccanico presso un'importante azienda della Sardegna, era l'unico profilo in Italia valido, questa era una multinazionale, non è stato assunto perché ha fatto un commento sull'ILVA tramite Facebook e l'Ufficio delle Risorse Umane ha detto no, non ci interessano questi profili. Un commento. E guardate che ingegneria meccanica non è banale, anni e anni di studio, anche trovare un posto in questi contesti non è facile perché sono molto specifici. Oppure come Miss Modena 2008, questa ragazza bellissima era lanciata nel concorso di Miss Italia, era diventata Miss Modena, le foto che vede dintorno sono delle foto che si è fatte e aveva pubblicato su internet. È stata cacciata in malo modo dal concorso di Miss Italia. Quindi il suo percorso se era nel mondo dello spettacolo è finito. Vedete quanti aspetti, quante particolarità, io intanto vado avanti, quante cose bisogna insegnare ai più giovani? Perché veramente un cellulare, un social network bastano per fare tantissimi danni, danni che casomai oggi possono essere gestiti ma torneranno a galla dopo 10 anni, 15 anni e lì non si può fare più nulla. Perché genitori alla riscossa? Adesso cominciamo veramente a chiudere. Perché è una sfida, l'ho detto prima, uno sprone? È un libro cartaceo perché lo dovete usare? Faremo l'ebook? Non lo so, io tendenzialmente sono per il no. Quando ci saranno i nativi digitali di prima generazione grandi, forse faremo un ebook ma serva a noi, lo dovete strappare, utilizzare. Il libro, mi sono segnato, se andate a pagina 18 per chi lo ha, in alto a sinistra c'è un QR code, un codice a barre, un codice, diciamo, un'evoluzione del codice a barre. Io l'ho chiamata lettura aumentata, andateci con un cellulare, fate una foto lì sopra con un software per poter leggere i codici QR e vedrete che oltre al libro ci sono informazioni multimediali, abbiamo visto due video, ce ne saranno 40 di video. Il libro nasce e io dico benissimo i capitoli ma leggete attentamente le appendici perché sono quelle curiosità fortissime. Dall'appendice numero due, questionario per capire l'importanza che su un figlio a Facebook, storici casi di cyberbullismo dove i ragazzi purtroppo sono morti, Amanda Todd per citarne una, o ci ritrovammo a fare un convegno l'anno scorso a novembre a Roma e da meno di 48 ore si era suicidato quel ragazzo solo perché aveva una maglietta rosa e metteva uno smalto per l'amore di Dio non entro nel merito personale ma non si può suicidare un ragazzo perché su Facebook viene preso di mira. Come dialogano i giovani? Insegniamo che il cellulare è uno strumento bellissimo ma che una certa ora va spento, non si entra sui social alle 3 di notte quando mamma e papà stanno dormendo e loro sotto le loro coperte fanno quello che vogliono perché tanto vale farli dormire fuori di casa forse si fanno meno male e poi una cosa che a me piace particolarmente che non è tipica di questi libri ma ho voluto inserire la filmografia tante volte non abbiamo tempo sì anche se secondo me crescere un giovane sia genitore sia come educatore importante però la filmografia oggi ci sono messaggi audiovisivi che arrivano molto più velocemente quindi far vedere dei film ci sono film molto belli su quelli che possono essere davvero i problemi e su come un ragazzo si deve comportare vi dico questo perché poi il resto del sommario è un manuale operativo analizza le problematiche ma vi dice come risolverle vi dovete mettere di fronte al computer prendere confidenza con lo strumento e utilizzarlo questa è la sfida che abbiamo proposto invece chiudo con delle domande che spero poi saranno argomento di dibattito perché se dobbiamo e questo vale per tutti vale anche per me perché se dobbiamo firmare un contratto ci fermiamo almeno a leggere cosa è scritto mentre quando facciamo un click non riflettiamo su cosa stiamo facendo ci avete mai pensato sì sì click sì 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 perché il nostro obiettivo è raggiungere cosa se non sappiamo quali sono gli accordi pericolosissimo se i siti web presentano ai bambini pubblicità comportamentale come si potrà crescere per confronto culturale diverso ormai quasi tutti mettiamo i nostri profili sanno cosa ci piace quindi ci propongono pubblicità mirate ma se io mi voglio un attimo spostare io sono cresciuto come incontro scontro la nostra realtà umana quando siamo bambini quando siamo adolescenti che siamo il no di tutto esattamente il contrario di tutto perché il confronto culturale è importante quindi è importante far capire che una pubblicità mirata va disattivata su chi è veramente piccolino se internet è la nuova strada il nuovo muretto chi insegna il minore a percorrerla gli abbiamo messo gli strumenti in mano no dobbiamo stargli dietro chi se la prende la responsabilità di rendere normale un bambino quello che si vede oggi online fatemi una cortesia tornate a casa e domandate se qualche d'uno dei ragazzi con un'età superiore a 9 anni conosce U-Porn secondo me vi dicono di sì tranquillamente forse voi non lo conoscete forse noi non lo conosciamo e l'ultima che mi sembra banale ma in realtà riscondo in varie relazioni ancora oggi considerate internet come un fenomeno? questa rispondetemi voi non mi fate rispondere a me ancora oggi? grazie e vigilate grazie grazie grazie